L'entusiasmo per la vittoria dell'Italia a Euro 2020 non si è ancora placato e già si parla dei prossimi tornei. Euro 2024 si giocherà in Germania, mentre per Euro 2028 la UEFA annuncerà il paese ospitante il prossimo autunno. La lista dei potenziali ospiti è già lunga e al momento gli schieramenti sono due. Da una parte Romania, Grecia, Bulgaria e Serbia che nel 2019 hanno avanzato una candidatura inedita a quattro stati sia per gli europei 2028 che per i mondiali 2030. Dall'altra parte abbiamo la Turchia che ha visto respingere la propria candidatura già cinque volte tra il 2008 e il 2024. Tuttavia le grandi federazioni del calcio continentale sono pronte a muoversi e su tutte prepara il proprio attacco proprio l'Italia sull'onda del successo degli azzurri di Mancini. Gli europei casalinghi potrebbero essere un momento di svolta per appunto l'ammodernamento infrastrutturale dopo i max interventi che erano stati fatti per i lontani mondiali del 1990. Tuttavia potrebbe scendere nuovamente in campo anche l'Inghilterra. Per oggi è tutto, business sport 24 torna domani, vi invito a visitare il nostro sito www.business24tv.it e a visitare anche la nostra sezione sport. Un saluto Elisa Mazzucchelli, ciao!